Ritornare alla normalità, questo è l'obiettivo dell'iniziativa della FIGICI, le Calcio Aiuta, per sostenere l'attività delle società sportive nelle zone colpite dai terremoti del 2016. Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le regioni coinvolte nel progetto realizzato con il patrio Cigno del Ministero dello Sport e con la collaborazione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione. La presentazione nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tornare alla normalità giocando, giocando su un campo di calcio, giocando su un prato, giocando in maniera tale da dimenticare o comunque sia da trovare un modo diverso per andare avanti. È anche il modo per dare una speranza, per avere la possibilità di stogliere l'attenzione anche dai problemi quotidiani che restano, che dobbiamo affrontare e che non vogliamo sottovalutare. In prima fila naturalmente la Federcalcio con l'UEFA, la Lega DB, la Lega Nazionale di Lettanti e le federazioni di San Marino e Giappone con oltre un milione di euro di contributo. Il calcio interviene come sempre e anche qui siamo presenti con la nostra disponibilità, con la nostra capillarità. Noi siamo presenti sul territorio italiano quasi come le poste italiane e come i carabinieri. Siamo un sistema di protezione civile in atto sempre, perché la nostra presenza è sul territorio come sentinelle per le attività sociali, sportive e soprattutto per il tempo libero. Il calcio si presenta così, la Lega Nazionale dei Lettanti ha questa vocazione. In particolare si vuole garantire il ritorno alla pratica sportiva ai bambini e ai ragazzi. Ambasciatore del programma, l'ex calciatore del Milan e della Nazionale, Paolo Maldini. Cercare di far tornare alla normalità una popolazione che è stata colpita in maniera così dura è molto difficile e il calcio, anche se solo a livello giovanile magari, può aiutare questo tipo di aggregazione e ritorno alla normalità. Assolutamente. Come descritto da Michele Uva, direttore generale della FIGC, in un primo step sono 51 i comuni individuati per un totale di 77 società calcistiche che verranno supportate con materiale tecnico, attrezzature sportive e dal punto di vista dei trasporti per raggiungere i campi agibili. Dal 19 al 31 maggio, giorno della sfida tra l'Italia del CT Ventura e San Marino, attivo anche un numero solidale per raccogliere ulteriori donazioni, oltre alla cifra già stanziata dalle aziende partner del programma.